Buongiorno, benvenute e benvenuti. Questo primo video è in realtà una intervista a due voci, con due esperti che hanno competenze diverse. Il tema è la scuola che verrà, cioè dove siamo, dove siamo arrivati con l'esperienza passata e dove potremo andare. L'idea nasce da una frase scritta da un collega proprio qua sulla tecnica della scuola. Poi verrà il momento di capire tutto questo con l'aiuto di famiglie e di ragazzi. Questa è un'intervista incrociata, seguirà poi al 4 di giugno un webinar che avrà lo scopo di tirare le fila delle varie proposte, del dibattito, dei vari documenti che stanno uscendo in relazione alla scuola del prossimo anno. Ma non solo alla scuola del prossimo anno, ma alla scuola del futuro, cioè alla scuola della normalizzazione di quella che verrà dopo il prossimo anno, che inevitabilmente sarà ancora un anno di trasmissione. Quindi il nostro obiettivo, cominciando con il dialogo di oggi che si rifà alle domande che più frequentemente sono stati posti dai docenti rispetto alla fase 1 e alla fase 2 di questa situazione di emergenza, allora l'obiettivo di oggi è quello di fare il punto in modo ordinato fra vari dati e proposte, dare conto del dibattito che si è aperto all'interno della scuola sul prossimo anno, ma anche sulla scuola del futuro, quindi su come le esperienze di questo anno ci aiutano a riprogrammare una scuola del futuro. In altre parole, cosa abbiamo imparato e cosa dovrà cambiare non solo appunto nel 2020-2021. È presente qui con me Stefano Penge, che è un esperto di didattica online, che progetta, costruisce, abita, ambienti di didattica digitale. Io sono, qualcuno di voi magari mi conosce, Rodolfo Marchisio, formatore anche per la tecnica della scuola e animatore della rubrica Dalla educazione civica alla cittadinanza digitale. Grazie di introduzione, Rodolfo. Dunque, a me il compito di iniziare, di aprire le danze. La mia domanda è questa. Ovviamente siamo verso la fine dell'anno, quindi gli insegnanti sono sicuramente un po' preoccupati della necessità di finire, di concludere, di svolgere il programma, ma d'altra parte c'è qualcuno che comincia a domandarsi se non sia più importante invece occuparsi, curare soprattutto la relazione educativa piuttosto che occuparsi del programma. Tu che cosa ne pensi? Sì, io credo che a livello di priorità occorra tenere conto di un aspetto fondamentale, cioè che siamo in una situazione di crisi, quindi diamo l'indispensabile di ciò che in questo momento è prioritario. Prendiamo atto del fatto che esiste una pluralità di fattori, di contesti, di limiti che nelle varie realtà tendono a suggerire di articolare possibili e plurali soluzioni contestualizzate il più possibile. Sarà poi compito del Ministero dell'Istruzione a livello nazionale quello di indicare che tutti gli allievi della scuola italiana, dovunque vadano, hanno diritto ad avere in termini di conoscenze, di abilità e di competenze. Abbiamo riscontrato, abbiamo verificato una diversità di competenze anche digitale, tra i docenti, i ragazzi e le famiglie, vedremo le statistiche, che è una diversità non censita a priori, ma questo non era possibile rispetto alle attrezzature delle varie scuole. Qualcuno ha stilizzato in qualche modo i docenti alle prese con la didattica a distanza, in attivisti dal basso, cioè facciamo noi che almeno sappiamo, stiliti, ma questa non è scuola, e allineati, cioè quelli che hanno adottato le linee del Ministero e hanno adottato le piattaforme commerciali indicate sul sito del Ministero. Teniamo conto che la didattica online è una cosa non semplice e controversa, questa è un'emergenza, facciamo quello che possiamo con la massima razionalità, con i criteri più ragionevoli. Teniamo conto che non esiste una soluzione, una piattaforma uguale per tutti e valida per tutti, e quindi che l'ideale in questo momento è sempre che i buoni docenti usino in modo intelligente quello che hanno, quello che sanno e quello che possono utilizzare e che si adatta di più alla loro situazione. Quindi con intelligenza, con flessibilità, contestualizzando gli strumenti conosciuti da loro e possibili. Possibili vuol dire possibile per i docenti per i ragazzi e per le famiglie. È mancata un po' una regia dall'alto, ma su questo torneremo. Qualcuno sostiene che questa è stata una situazione di assenza della scuola reale da fronteggiare con ragionevolezza e questa è la posizione del CD. Io sostengo, mi chiarisco subito, che è la mia posizione, è che noi abbiamo avuto una fase 1, insomma, di oddio che cosa faccio, una fase 2 di organizzazione delle buoni docenti, delle buone scuole, per fare il meglio possibile. Adesso ci sarà una fase di riflessione, ma dovremmo riflettere su, come è nello spirito di questa intervista, dovremmo riflettere su due aspetti, cioè quello che ci ha insegnato il passato rispetto all'organizzazione della scuola del prossimo anno, che sarà ancora inevitabilmente una scuola di transizione, è quello che abbiamo imparato, quello su cui stiamo ragionando, per la scuola del futuro, cioè per avere attraverso questa spinta della crisi, l'occasione per rinnovare la scuola. Ad esempio, inserendo di più il digitale rispetto al passato, e qui ci sono delle statistiche piuttosto significative, inserendo di più il digitale come ambiente di apprendimento, come ambiente di ricerca e di lavoro. La chiave appunto del nostro lavoro e della mia risposta è quello che noi abbiamo cercato giustamente una continuità nella relazione educativa. E quindi, secondo me, ha senso in questo momento condividere una riflessione complessiva su quello che è successo e sta succedendo e trovare un senso complessivo che non sia solo il proporre delle ricette per l'anno prossimo, ma di ragionare su quali criteri, quali metodologie per le scelte dell'anno prossimo, ma anche per la scuola che verrà, cioè la scuola del futuro. E quindi non solo su con che tecnologia faccio una cosa, ma cosa ci faccio con quella tecnologia, come metodo, come ci lavoro e perché. E ci sono una serie. Tutti questi problemi sono tra l'altro molto collegati, cioè nel momento in cui si progetta la didattica si progetta anche l'utilizzo delle metodologie, degli strumenti, del digitale e così via. Dicevamo, è mancata una regia dall'alto, ci sono mossi i bravi docenti, le buone scuole, i dirigenti scolastici, dal basso un po' inevitabilmente in ordine sparso. Questo ha avuto da un lato dei vantaggi, per esempio rispetto alla contestualizzazione dell'intervento. Dall'altro ha avuto degli svantaggi che sono emersi e che rimangono nella sintesi che dobbiamo fare rispetto al prossimo anno, per esempio rispetto alla frattura digitale. Fra chi ha e chi non ha le attrezzature, chi ha e può utilizzare delle competenze e chi non ha e quindi non può utilizzare delle competenze nelle scuole e nelle famiglie. Sono emersi problemi organizzativi, tecnici, ma anche relazionali, come vedremo nuovi. Allora, è successo un po' di tutto, nel senso che ognuno di noi forse ha portato nella scuola un po' se stesso, chi era più preoccupato di finire il programma, di interrogare gli allievi, di arrivare a una valutazione, quindi di lavorare sull'apprendimento, chi era più preoccupato di curare la relazione educativa e di formare, io direi soprattutto, di formare competenze attraverso queste esperienze. Si trattava di coprogettare e covalutare dall'inizio insieme ai colleghi, agli studenti, scusate, alle famiglie online, agli esperti, alcuni esperti, evidentemente, e su questo anche ci sono una serie di dati su come sono andate le cose. Una cosa interessante è il fatto che si è tornato a parlare di competenze e c'è stato anche, si è evidenziato anche un intreccio inscindibile fra le infrastrutture e le competenze digitali, ma io aggiungerei anche la cultura che noi abbiamo del digitale, che non è solo scegliere una piattaforma o saper usare uno strumento. Diceva un collega, proprio qua sulla tecnica della scuola, i nostri alunni ci giudicheranno, ma non giudicheranno la mancata perfezione dell'uso di uno strumento o di una piattaforma. Ricorderanno che ci siamo stati e che ci siamo stati per loro, non per andare avanti col programma, ma per accompagnarli verso la conoscenza e per accompagnarli attraverso la relazione. La dottoressa Aiello, direttrice dell'invasi, ha sottolineato che il concetto di competenza fa ancora fatica a entrare nella pratica didattica. Dopo 25 anni di corsi di aggiornamento, la maggior parte dei docenti continua a non lavorare per competenze. Dall'altra parte, direi che è emerso anche che, dopo 25 anni e più di formazione sulla didattica digitale, la didattica digitale, le competenze digitali non sono entrate sufficientemente a far parte della pratica scolastica e quindi su questo direi che dovremmo riflettere. Grazie. Prima stavi parlando di essere insieme e di quello che si ricorderanno gli studenti. Tu diresti che è più, in qualche maniera, è più importante il ruolo delle emozioni, in qualche maniera, è più importante di quello della conoscenza, degli apprendimenti? Bisogna curare di più le risposte emotive degli studenti oppure curare di più la loro sete e il loro bisogno di apprendimento? Il ruolo delle emozioni, a mio avviso, è fondamentale. Io credo da sempre, per la mia esperienza di carattere personale, ma anche di carattere professionale, che l'elemento, in ultima analisi, determinante nelle situazioni che hanno a che fare con il lavoro, con le persone, siano gli aspetti emotivi e relazionali. Tenendo conto, appunto, del fatto che i ragazzi non imparano da quello che diciamo loro, ma dalle prediche, insomma, delle nostre lezioni, eccetera, ma dalle esperienze significative che fanno con noi, soprattutto, se sono significative dal punto di vista emotivo e relazionale. E quindi anche da quello che noi siamo come modelli. Siamo stati in questa situazione come modelli anche con le nostre paure e con i nostri difetti. Allora, c'era stata una necessità da parte dei docenti di mediare rispetto a questa crisi, soprattutto per i bambini più piccoli, e di cercare di suscitare delle emozioni positive, delle motivazioni, cioè di lavorare sull'aspetto emotivo e non solo cognitivo. Quello che l'usito chiamava il clima di classe, a cui dovremmo in qualche modo tornare e che comunque dobbiamo garantire anche all'interno della didattica a distanza. Un altro elemento di riflessione è il fatto che noi abbiamo dovuto lavorare con ragazzi e con famiglie già stressate. Quindi per il lavoro a domicilio, per la mancanza di lavoro, la sospensione in cassa integrazione e così via. Quindi si tratta di non aumentare troppo con la scuola la situazione di carico emotivo. C'è bisogno, diceva qualche collega, di maggiore sostegno di carattere educativo ed emotivo più che di istruzione. Un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, proprio un preside, credo di Brescia, che ne parlava su questa rubrica, la tecnica della scuola, è stato il dolore. Come ha influito il dolore? Allora, un preside del Bresciano che diceva noi c'eravamo preparati a fare una buona scuola, didattica a distanza e così via, ma il suonare delle campane ha morto in continuazione, il passaggio dei camion militari con le bare dei morti e a un certo punto ci ha buttato a terra, cioè ci ha demotivato completamente. Ci sono stati diversi aspetti delle relazioni dei ragazzi sui quali magari torniamo. Allora, sulla funzione di carattere psicologico, diceva appunto uno psicologo che i ragazzi hanno bisogno in questo contesto di continuare una relazione educativa con persone adulte significative ma scomparse, per esempio i docenti, per esempio i nonni. C'è bisogno di condividere con i coetanei delle forme nuove di proposte da parte degli adulti di stare insieme. C'è bisogno di empatia, di emozioni, di emozionarsi insieme agli altri e in questo forse il media non digitale è un pochino freddo ma comunque col video sta recuperando. C'è bisogno anche di stabilire dei ritmi, dei rituali, cioè una certa organizzazione della giornata che serva a dare sicurezza ai ragazzi. C'è bisogno di pensarsi in una prospettiva futura e che questa prospettiva futura preveda un ritorno alla normalità. C'è anche, osservava un collega qui sulla tecnica della scuola, c'è stata anche una funzione sociale nel senso che, diceva il collega, i miei allievi mi accorgo che mi cercano anche in momenti non, diciamo, classici, mi cercano la domenica, vogliono chiacchierare, vogliono parlare con me, che sono modi anche per superare l'ansia che stiamo vivendo tutti e quindi di mettere in comune ansia, angosce attraverso la discussione come è classico fare. Un'ultima osservazione e concludo una psicoterapeuta sta tenendo qui una rubrica sulla tecnica della scuola e parla del peso delle parole cioè che le parole che sono state usate anche dai media sono parole che hanno a che fare con un lessico guerresco cioè siamo in guerra sono in prima linea e così via. Queste parole chiave hanno un peso notevole perché attraverso queste parole chiave viene fuori la narrazione che noi quindi come noi siamo in grado di raccontare di far vivere e quindi parole chiave narrazione vissuto da parte dei ragazzi in particolare da parte dei bambini e il problema della mediazione quindi sarebbe anche il caso che i media non enfatizzassero diciamo su aspetti con titoli ecco sparati con titoli clamorosi non enfatizzassero quello che non è necessario. Parlando di modelli tu prima parlavi dell'importanza per un docente di essere un modello per lo studente però oltre a un modello di persona si può pensare a un modello di relazione di relazione tra scuola e famiglia o di relazione tra studenti e docenti ma anche di relazione tra docenti o tra docenti e dirigenti secondo te è meglio cercare un modello unico che vada bene per tutti oppure dobbiamo costruirci dei modelli contestualizzati specifici che nascono dal contesto? Sì credo che questo dei modelli sia un altro dei temi fondamentali sul quale tra l'altro interverrai meglio tu perché sei più competente ricordo una frase di un collega che diceva io penso sommessamente che il metodo di studio trasmissivo e conservatore della scuola italiana debba cambiare appunto rispetto al futuro abbiamo a che fare con una serie di variabili nel senso che da un lato ci sono le variabili relative ai docenti che sono per esempio le competenze metodologiche online digitali eccetera che riguardano vedremo gli studi ma il 47-48% dei docenti comunque i bravi docenti si sono messi in gioco hanno rimediato si sono organizzati quindi lasciamoli lavorare e poi ci confrontiamo per quanto riguarda i ragazzi le variabili aumentano nel senso che ci sono tutte le variabili legate all'età alle competenze alle attrezzature digitali che hanno a disposizione in casa agli spazi in casa che devono condividere con la famiglia al sostegno alla didattica e all'apprendimento che possono dare le famiglie ci sono stati dei trucchi anche da parte dei ragazzi assenze qualcuno si è fatto cercare a casa con lo smartphone qualcuno ha anche fatto delle operazioni di hackeraggio sostituendosi al docente sia hackeraggi interni alla classe sia hackeraggi esterni ma complessivamente l'impressione dai vari riflessioni dei colleghi è che col tempo le cose sono andate meglio e solo in qualche caso insomma ci sono stati dei problemi un altro fattore un terzo fattore che entra in campo sono le competenze e le esigenze delle famiglie teniamo conto che in Italia 3 su 10 le famiglie non hanno collegamento a internet che solo il 50% delle famiglie italiane ha un personal computer che tra il 90 e il 94 95% delle famiglie e delle persone italiane dai bambini ai anziani ha comunque un smartphone ma puoi capire smartphone o cellulare e quali smartphone con quali possibilità ovviamente all'interno della famiglia ci sono posti problemi di organizzazione dalla condivisione dei collegamenti e dei tempi rispetto alla rete alle modalità l'altro elemento fondamentale è stato il discorso dei genitori perché i genitori ovviamente se stavano facendo il telelavoro non avevano la possibilità di mettersi a seguire i ragazzi durante l'apprendimento e le attività didattiche quindi praticamente c'è da ragionare un po' su aspetti di carattere strutturale sulle quali stanno venendo insomma un po' come dire al pettine questi elementi saranno oggetto di riflessione sono già oggetto di intervento da parte del governo del ministero e vedremo con quali risultati c'è da fare un'osservazione sul rapporto tra ragazzi della classe e ragazzi coinvolti ragazzi italiani e ragazzi coinvolti effettivamente qui ci sono una serie di statistiche che ci aiuteranno la mia impressione è che si sia passati un po' dal timore al rumore cioè dopo una prima fase oddio che cosa succede come ci organizziamo poi a un certo punto tutti hanno cominciato a dire la loro a proporre anche in buona fede cose spesso diverse quindi c'è da domandarsi quanto questo sia servito ai docenti per organizzarci è un po' aumentato il chiasso sia a livello sociale i medici i politici eccetera che si dividono e danno analisi di contrapposte ma anche appunto un eccesso di suggerimenti rispetto alla scuola questo è importante perché dal punto di vista psicologico avremo tutti bisogno di meno notizie gli esperti giornalistici io penso che in situazioni di crisi ognuno dovrebbe tornare a fare il proprio mestiere e a farlo bene il mestiere dei giornalisti è quello di filtrare di mediare le notizie di non sparare dei titoli sensazionalistici quindi anche gli adulti anche i docenti e i genitori devono in qualche modo fare un'opera di mediazione rispetto alle notizie verificandole ma anche cercando di minimizzarne i danni che possono derivarne un concetto fondamentale è quello che dal punto di vista psicologico noi abbiamo bisogno di lasciare uno spazio emotivo aperto dentro di noi per accogliere e elaborare le notizie che siano buone o cattive ma soprattutto le cattive notizie se noi saturiamo troppo presto questo spazio emotivo è evidente che non abbiamo più disponibilità per accettare cattive notizie quindi entriamo in situazioni di ansia di depressione di angoscia quindi i bambini e i ragazzi in questo vanno aiutati perché sono meno abituati a condividere e a elaborare le cattive notizie un'altra osservazione e concludo con questo si è poi passati in una terza fase a un eccesso di diffusione di buone pratiche noi facciamo così nella nostra scuola si è fatto così eccetera allora un'osservazione forse controcorrente ma che vorrei fare è che l'eccesso di informazioni e quindi anche l'eccesso di buone pratiche nelle situazioni di crisi in realtà rischia di confondere le idee cioè io penso che nella mia esperienza anche di 15 anni di gestione di buone pratiche a livello di progetti di cittadinanza di cittadinanza agita di cittadinanza digitale sia che le buone pratiche servono solo se sono organizzate all'interno di un archivio e di un repository per esempio che sia interrogabile per livello scolare per parole chiave per metodologie usate per strumentazioni didattiche per tematiche e così via altrimenti rischiano in qualche modo di far lavorare con più confusione mentre in questo momento la parola d'ordine fondamentale per me è lasciamoli lavorare in pace poi traremo le conseguenze in pace a fare le conseguenze fare le conseguenze Grazie a tutti